Nella suggestiva cornice della Sicilia occidentale e dell'antica corte delle ninfee, luna stanford alessandro balsamo e alberto lori presentano la seconda edizione della vacanza formativa trapanese cinque giorni di relax all'insegna dell'equilibrio psicofisico la giornata degli ospiti dell'antica corte delle ninfee è scandita non solo dalla visita delle bellezze naturalistiche della Sicilia occidentale. E dalla scoperta delle prelibatezze gastronomiche siciliane ma anche dalla riscoperta di se stessi e dei meccanismi alla base della nostra vita. Le tre ore pomeridiane di seminario tenuto da Alberto Lori, la cui voce storica della RAI ti avrà accompagnato in tanti programmi televisivi, ti condurranno in un fantastico tour nella mente dell'uomo per comprendere come ciascuno di noi, esseri umani, siamo parte di una realtà che creiamo man mano che la osserviamo. Il cervello crea immagini olografiche della realtà per servirsene come simulazioni virtuali, ma quella realtà è soltanto una rappresentazione soggettiva, diversa per ciascuno. La realtà non è concreta, è solo possibilità. Ciò che vedo lo costruisco con il mio cervello. Questo significa che posso intervenire sulla mia realtà. Mi domando, se le cose stanno così, perché la mia realtà non è mai sinonimo di felicità? I meccanismi con cui opera la nostra mente non sono di facile comprensione. Tutti noi siamo in grado di desiderare una cosa a livello conscio, ma ciò purtroppo non basta realizzarla se il nostro inconscio non è d'accordo. Noi siamo il frutto delle nostre credenze e se crediamo che un evento sia impossibile, non lo realizzeremo mai. Siamo gli unici responsabili di come viviamo. Dobbiamo imparare a spezzare le nostre credenze limitanti, a liberarci una volta per tutte di quelle abitudini inconsce che ci impediscono di aspirare davvero a quella felicità che è a portata di mano. Siamo certi che se verrai con animo libero, con la mente sgombra da preconcetti e ti lascerai rapire dall'incanto dell'antica corte delle ninfee, tornerai a casa con uno spirito diverso da quello con cui sei arrivato. Grazie per la visione!